Quarto giorno di presenza davanti ai cancelli della Ergon nella zona PIP Gerardo Ritorto a Polla per gli operai e i dipendenti dell'azienda. Cancelli ancora chiusi in attesa delle decisioni della regione sui consorsi, ma i dipendenti presidiano l'ingresso e continueranno a farlo fin quando non avranno risposte certe sul loro futuro. Questa mattina hanno anche ricevuto la visita del consigliere regionale Michele Cammarano del Movimento 5 Stelle, invitato sul posto dall'attivista grillina Enzina Gianattasio di Polla. Non è la prima volta che il consigliere è a Polla per incontrare i dipendenti dell'Ergon, anche in un'altra occasione, quando alcuni operai salivano sulla torretta per protestare, li incontrò. Chiederemo un nuovo incontro con la regione, dice Cammarano, e studieremo il caso con ancora maggiore accuratezza. Interveremo nelle sede opportune e cercheremo di capire e risolvere i problemi per gli operai dell'Ergon, che sono, ricordiamo, circa 60. Nel pomeriggio, inoltre, è previsto anche un incontro con il commissario liquidatore dell'azienda.